Siamo con Mr. Tannelli per commentare il pareggio a rete inviolate tra San Colombano e Fenegrò. Una bella partita, direi, con occasione di ambo le parti. Un buon San Colombano, come possiamo commentarla. Sì, l'hai sintetizzata tu, sono d'accordo con la tua valutazione della partita. Meglio noi sicuramente nel primo tempo, dove non abbiamo praticamente fatto gol nelle occasioni, anche grossi non ci sono capitate. Nel secondo abbiamo perso un pochino le distanze, qualcuno è andato anche in fatica. Gli avversari sono cresciuti, anche perché comunque noi due o tre uscite con la palla gli abbiamo concesso dei regali. Poi la partita è stata sostanzialmente in equilibrio, con occasione da entrambe le parti, come dicevo. Quindi adesso abbiamo la pausa che ci consente di ricaricare un po' le batterie, perché ultimamente con gli infortuni stiamo stringendo un po' i denti, no? Sì, esatto. Abbiamo bisogno di rimetterci a posto con gli infortunati. Questa è la priorità di questo periodo, oltre che di ricaricare le pile anche a livello fisico-atletico. Andremo avanti a prepararci per la gara che avremo fra 15 giorni, però la priorità è recuperare quanto è più possibile tra gli infortunati che abbiamo, non sono proprio così buoni. Poi ci attende un trittico prima della fine dell'andata, con Busto, Verbano e Cavenago Fanfula, di quei belli tosti. Con squadre di livello, era questa una squadra di livello, come lo è stato il legnano, una squadra di livello. E ci prepareremo per il trittico finale al meglio, nelle nostre possibilità. Grazie mille, salutiamo Mr. Tannelli, ci sentiamo magari in settimana. Grazie.